Un apposito bando, le stime dei danni causati dal maltempo dello scorso 2 giugno ed un incontro ieri sera in sala consigliare fra il sindaco di Bassano Elena Pavan, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta e i cittadini bassanesi colpiti. Danni complessivi per alcune centinaia di migliaia di euro, una quarantina alle persone che hanno visto danneggiamenti a causa del maltempo. Tra questi anche tre aziende di Sant'Eusebio, Barrovina e San Michele. Ora le pratiche passano in regione per i ristori del caso.